Allora, un vero e proprio processo ai compiti, quello che ci sarà a Civitavecchia? Sì, abbiamo invitato un esperto del settore, che è un dirigente scolastico di Genova, che da molti anni sta portando avanti questa campagna Basta Compiti. Ha una serie di motivazioni sensate. Noi faremo il processo perché non vogliamo essere di parte, nel senso che vedremo quali sono i pro e i contro rispetto ai compiti, con un esperto che nega, diciamo, la validità dei compiti, poi altre persone che invece magari la pensano al contrario. Allora, alla fine daremo un giudizio attraverso una giuria di 21 persone, composta di genitori, insegnanti, studenti, che daranno un voto, appunto, dicenderanno se i compiti sono da considerare colpevoli, innocenti, oppure da rinviare il giudizio. Ma anche tutta la platea poi sarà portata al voto e tutto questo si trasformerà in una piccola trasmissione televisiva e poi metteremo a disposizione. È un argomento molto interessante anche perché Maurizio Parodi è una persona veramente acuta, che ha fatto un lavoro enorme, è un formatore, è uno scrittore, e quindi è molto interessante. Io invito tutti a partecipare perché penso che i compiti siano qualcosa che i genitori, gli studenti e tutti gli insegnanti hanno a cuore, sia perché sono a favore, sia perché sono contro. Quindi è un dibattito molto interessante. Maria Delmirani, quando, dove si terrà questo vero e proprio processo e come è stato organizzato? Allora, questo processo si è organizzato per il giovedì 15 presso l'Aula Magna del liceo scientifico di Cività Vecchia a Galilei. Per quanto riguarda l'organizzazione ha già detto quello che doveva dire Fabrizio. Invece quello che volevo mettere in evidenza è l'attività che sta facendo questa associazione, che è di tipo innovativo dal punto di vista sociale e dal punto di vista culturale. Praticamente noi cerchiamo in queste nostre attività di mettere insieme i vari strumenti e risorse umane, culturali, artistiche, eccetera, per raggiungere quegli obiettivi che sono nell'interesse della comunità. E soprattutto facciamo questo perché ritorni alla comunità quello che dal punto di vista economico magari hanno dato. Diciamo, un primo esempio l'abbiamo già dato con lo spettacolo che abbiamo fatto, il 7 al Traiano. Abbiamo raccolto, messo insieme 700 alunni con due spettacoli e abbiamo fatto uno spettacolo di tipo innovativo perché abbiamo portato insieme la lingua inglese, la lingua dei segni, l'italiano e abbiamo avuto un'interazione continua con i ragazzi e uno spettacolo che ha avuto un grande successo. Quindi, diciamo, la nostra peculiarità è proprio questa, cercare di far partecipare tutti e soprattutto in quello che diamo come associazione e che prendiamo dall'utenza, ad esempio facendo gli spettacoli abbiamo incassato 6 euro a testa, 6 euro per ogni bambino. Una parte di questi 6 euro, il 40% nettato delle spese vive che abbiamo sostenuto, ritorna poi alla scuola con degli obiettivi che loro stessi hanno già prefissato o comunque è un utile che ritorna a vantaggio della scuola.